Dovrà essere la procura di Roma che ha aperto un'inchiesta a cercare un legame certo tra una scelta estrema compiuta a 14 anni e l'eventuale gesto o insulto o atto di derisione che potrebbero averla determinata. Per ora restano il disagio e l'angoscia di un adolescente che affiorano dall'ultimo messaggio lasciato ai genitori prima di gettarsi nel vuoto da questo palazzo in periferia di Roma. L'accenno a dangherie prese in giro da parte dei coetanei e quelle parole sono omosessuale e nessuno capisce il mio dramma. In attesa dei riscontri affidati ai PM quel messaggio affidato a una pendrive trovata dai genitori riaccende il dibattito intorno a un tema, quello dell'introduzione in Italia del reato di omofobia su cui il Parlamento discute da tempo in cerca di una sintesi non facile da individuare. Per la Presidente della Camera Laura Boldrini quelle parole sono però un grido di dolore che arriva a politica e istituzioni. La Boldrini si è detta fiduciosa sull'avvio della discussione in aula del testo sull'omofobia per arrivare quanto prima all'approvazione di una legge che saprà allinearci agli altri paesi dell'Unione Europea. Nichi Vendola interviene con durezza. Spero che un'intera classe dirigente chieda perdono per le vittime dell'omofobia e per aver consentito che l'odio per la diversità diventasse l'essi coordinario della contesa politica. Dalla galassia di associazioni che si battono per la difesa dei diritti degli omosessuali arriva l'invito alla politica ad accelerare sulla legge. Tra le richieste anche quella al governo letta di un decreto contro l'omofobia sulla scia di quello per il femminicidio. La strada maestra però è quella di una legge parlamentare da tempo in discussione. Sarà approvata dopo la pausa estiva, spiega l'ex ministro per le pari opportunità Carfagna. Certo avremo fatto meglio a vararla nelle scorse legislature, ha aggiunto. Rinviato a dopo l'estate per dare la precedenza ad altri decreti in scadenza, un testo andrà in aula a settembre dopo il lavoro di mediazione svolto dai relatori in commissione. È stata espunta per esempio l'introduzione di un reato contro la diffusione delle idee di chi è contrario al matrimonio omosessuale e adesso si cercherà finalmente un'intesa, non proprio scontata, tra le anime della maggioranza delle larghe intese.